Incidente mortale alle prime ore dell'alba di oggi a Chiesuola di Russi. Un 58enne a bordo di una Chevrolet Matiz stava viaggiando da forri verso Russi quando nell'affrontare una curva ha perso il controllo ed è finito nel fosso. Da chiarire la dinamica forse anche un malore. Dare l'allarme è stato un metronotte di passaggio. Immediati soccorsi che non hanno fatto altro che accertare il decesso dell'automobilista. Sul posto i Carabinieri di Ravenna, i Vigili del Fuoco e il 118.